26 pietre d'inciampo a Venezia e terraferma posizionate tra oggi e domani portando a 185 il numero delle stolpersten collocate in città. La cerimonia giunta all'udicesima edizione è stata scandita dai minuti di silenzio e raccoglimento davanti alle abitazioni che furono l'ultima dimora dei concittadini veneziani prima della deportazione, poi una rosa rossa accanto alle pietre appena deposte. È un grande momento di comunità perché ci stringiamo attorno, a ricordo, alla memoria di tutti i nostri concittadini deportati nei campi di sterminio. È un momento importante, un'occasione di riflessione, di inciampo emotivo rispetto a quello che è stata la tragica realtà e l'orrore dei campi di sterminio nazisti. L'itinerario è iniziato in mattinata a Venezia in Sestere Castello per arrivare in campo del Ghetto Novo in Sestere Canareggio. Nel pomeriggio è continuato a Mestre e Favaro. A rendere omaggio alla memoria dei veneziani è stato anche l'artista tedesco ideatore delle pietre che 11 anni fa partecipò alla prima posa di inciampo a Venezia, ricordando anche che le pietre sono presenti in 31 paesi europei. Hanno partecipato anche stamattina tanti, tanti giovani. Questo è senz'altro positivo. Abbiamo invitato anche la consulta provinciale degli studenti perché poi dopo di noi dovranno loro continuare questi percorsi di memoria. Credo che in un particolare momento storico come quello che stiamo vivendo sia davvero importante far partire messaggi di fratellanza, di rispetto, di condivisione e soprattutto di pace. Ci impegniamo noi a essere sempre presenti e a postare ai nostri compagni di scuola nelle scuole di tutta la provincia questo messaggio anche in collaborazione con tutte le associazioni per diffondere la memoria nelle generazioni che verranno noi in primis.